Il mio percorso con l'istituto Helvetico Sanders è iniziato circa un anno e mezzo fa. Precedentemente io mi ero rivolto presso un dermatologo che mi aveva consigliato delle sedute di mesoterapia. Le avevo portate avanti per circa un anno, però i risultati avevano lasciato alquanto a desiderare. Pertanto dopo aver letto su internet, ma anche su delle riviste, la pubblicità dell'istituto Helvetico Sanders, ho deciso di rivolgermi a loro e di fissare un appuntamento. Sono stato accolto in maniera gentile e professionale da una dottoressa che mi segue tuttora e da allora sto seguendo un percorso a base di prodotti naturali che praticamente ha fatto sì che nell'arco di un anno e mezzo la mia situazione sia notevolmente migliorata. Inizialmente io ammetto che ero un pochino titubante come un po' per tutte le cose nuove che bisogna provare, proprio perché venivo da un'esperienza non felice, non positiva dal mio ex dermatologo e a distanza di un anno e mezzo posso ribadire che ho fatto sicuramente la scelta migliore, sono soddisfatto del tempo e dei soldi investiti. I benefici sono stati molteplici. Innanzitutto la qualità dei capelli e del cuoio cappelluto. Io soffrivo parecchio di forfora, da quando ho iniziato i trattamenti non ne ho mai più avuta, i capelli sono più morbidi, puliti, come ho detto il diradamento si è bloccato, i capelli che comunque stentavano a ricrescere o cadevano hanno ripreso vigore, quindi comunque la situazione generale è migliorata notevolmente. Non ho più osservato perdite, quando mi faccio la doccia o comunque mi spazzolo i capelli non trovo più rimasugli nel lavandino o nella spazzola. Diciamo che sono molto soddisfatto dell'andamento e sono ulteriormente invogliato a proseguire nelle terapie e spero di ottenere da qui ai prossimi mesi ulteriori benefici e miglioramenti generali. Sicuramente sì, senza ombra di dubbio credo che se avranno l'opportunità di fissare un appuntamento e venire qui negli studi della sede più vicina dove abitano, troveranno sicuramente personale qualificato, gentile e cordiale che saprà spiegare nel miglior modo possibile il loro problema e trovare anche le migliori soluzioni, i migliori trattamenti per poter ottenere nei tempi prestabiliti, dei risultati apprezzabili come è stato appunto nel mio caso.